Ben trovati amici di Alto Vicentino Online. A parlare di meteo, soprattutto in questi ultimi giorni, si incoccia spesso su definizioni da Burian Bis, Burian Tris, Burian Quatris e addirittura chi più ne ha più ne metta, ritorno dell'inverno, ritorno della neve in pianura, ritorno del gelo. Ma quanto c'è di vero in tutto questo? Ma di vero c'è che stiamo vivendo il primo mese della primavera meteorologica, che è un mese che sia per statistica, ma perché per sua definizione spesso porta a dei ritorni a condizioni più fredde, magari più tipiche della stagione che ci ha preceduto, ovvero dell'inverno. A partire da domenica, infatti, una fase più fredda interesserà il nostro territorio. Si tratta di una massa d'aria di origine artica, quindi nulla a che vedere con le masse d'aria siberiane, che valicherà in parte anche le Alpi e si presenterà domenica, portando condizioni favorevoli anche alla caduta di neve fin su quote piuttosto basse, quindi quote collinari localmente anche più in basso. Sono condizioni che anche in passato si sono osservate sul nostro territorio. È per questo che spesso ci troviamo un po' come meteorologi interdetti nel leggere sensazionalismi, esagerazioni, frasi altisonanti per richiamare ad eventi che fanno parte anche del clima del nostro territorio, appunto del mese di marzo, che è un mese ancora in cui la stagione non è definitivamente partita e ancora in cui molti non hanno fatto giustamente, c'è da dire, il cambio di stagione. Pertanto l'informazione meteorologica corretta è sostanzialmente questa. Prepariamoci a una fase più fredda, a condizioni atmosferiche più attinenti al tardo inverno che non all'avanzata primavera, quindi saluteremo anche magari i giorni soleggiati di oggi e accetteremo dei giorni più freddi con temperature che scenderanno nuovamente vicino allo zero, soprattutto in aperta campagna e la seconda metà di marzo promette di essere di questo tipo. Buona giornata a tutti!